Patriarca, a posto è chiusa la votazione, la Camera respinge. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1. È aperta la votazione. Carrozza, Greco, Pistelli, Grillo. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 2. È aperta la votazione. Borghi, Vico. Ci siamo? Gelmini. Bene, è chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo alla votazione dell'articolo 3. È aperta la votazione. Venitelli. Piepoli. Onorevole Piepoli, provi a votare? Ecco, grazie. È chiusa la votazione. La Camera approva. Ora passiamo ai pareri sull'articolo 4. Io lo so che il relatore ha anticipato, ma deve riprendere i pareri sugli emendamenti dell'articolo 4. Sì, grazie, Presidente. Ci mancherebbe. No, i pareri, come ho già detto all'inizio nell'espressione dei pareri dell'articolo 1, sono tutti...